Svapogamer Ok Vai Paolino Ok siamo dentro Yes Eferi Cerchiamo la tomba Ok Ehi Nathan Guarda qui ci sono un paio di sciabole Si Ma le date no Beh Una in meno E altre 1000 da controllare Ok Si Adesso dovremmo trovare quella giusta Teschio e ossa incrociate E le date 1659 1699 Non me le ricorderò mai Yes Dai che ci piace un po' qui C'è niente Niente No non sa roba Eh guarda qui Il tempo divora tutto Certo sono gente allegra qui dentro Allegrissimo Comunque dobbiamo cercare 1000 No le date sono diverse se non mi ricordo male No non è la tomba che stiamo cercando Questa non ha il teschio e le ossa incrociate Mi sono già dimenticato le date ma fa niente Vediamo qua Oh le spade corrispondono Non ci sono i teschi No Date diverse Ok Ancora niente Eh diciamo che Eh diciamo che un po' la La data è corretta ma le spade sono rovesciate Le spade sono rovesciate Quella sbagliata Eh si Diciamo che un po' tutti vorrebbero andare in giro a profanare tombe Niente 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 Vediamo questa No la data è sbagliata Questa Questa no No Niente spade incrociate Non è lui Ma nemmeno la data è giusta Oh Guarda che questa Le date però Le date però Le spade corrispondono La data pure E anche l'anno Sam vieni Hai trovato? Guarda Benjamin Bridgman Seudonimo dietro Eppure il teschio ha qualcosa di strano Sembra strano alla lapide Già ma soprattutto questo non è il sigillo dietro Vero il teschio dovrebbe essere Di profilo Grandi meccanismi nascosti sotto Sotto la neve Te la senti? No non me la sento però Siamo venuti colpo per quello Guarda Venga Vediamo che abbiamo qui Bravo quella torta Ci sarà il finimondo qua sotto E' una cripta Cripta nascosta dietro una porta segreta Immagino che la porta sia stata aggiunta dopo Per nascondere il bottino Incrociamo le dita C'è niente Chissà cosa troveremo qua sotto Mortiche camminano Nebbia velenosa Oh oh La banda al completo Di qua? Oh ho trovato un tesoro Mezzo penne scorsi Vabbè Oh primo tesoro guadagnato Eh collezionabili ne avrò lasciati dietro a migliaia però vabbè E' questa Gesù Disma a sinistra Il ladro pentito Gesta sulla destra Il ladro pentito Il ladro pentito All'epoca era una condotta da gentiluomini Eh eh Qua c'è la porta Andiamo Questa era una porta? E' sempre re Ecco lo che ho detto io Capisco come si apre Cosa sono questi simboli a stella? La costellazione di Okuto Cos'è un generatore? Una specie di lanterna Ma c'è? Ehi ciminiera Qui serve il tuo accendino Ehi Rispetta i miei vizi Vorresti rispettare i tuoi polmoni Grazie padre Taffi Certamente ha un effetto scenico Luce arriva dall'altra parte della parete Eh si Andiamo a vedere Guarda C'è qualcosa alla base delle statue Bene, diamo un'occhiata Guarda Guarda un po' Oh Allora Così Dovremmo trovare il modo per Facci vedere Porco cane Questi sono qua Eh si però come li collego i dentini? Ah ma si possono ruotare Non l'avevo capito Ok quindi questo è così Sì Questo qua adesso vediamo Perché siccome non l'avevo capito Si poteva ruotare E queste sono così E l'ultima Guarda Guarda Dove cacchio sparo E' così Tarak Grazie Ci ho messo meno del previsto dire il vero Pensavo di starci tipo le ore qua Dici caro Abbra proprio una costellazione Già Libra La bilancia della giustizia Si Scelta curiosa Una banda di piramidi Ok Vediamo che succede Le peggio cose che usciranno da questa porta Porto cane Un tesoro sbagliato Un tesoro sbagliato Che palle Bel panorama Ma nessun tesoro No ma Lei vedi quelle croci? Sì Ehi ma è una caverna Lì sotto Sì Penso che Everett ci stia indicando la strada C'è solo un problema Come già Andiamo di qua Torniamo verso la cattedrale E torniamo da Reif Merda Beh Non facciamolo aspettare Eh no Andiamo a uccidere un po' di uomini di Reif Ok non sembra esserci nulla Vediamo qua Qua è dove abbiamo trovato Sì La moneta Via su Adesso ci aspettare Credo un bello scontro Perché Se gli andiamo in bocca Cosa c'è qua? È stato scritto da uno dei monaci? Sì Giro Ok Un appunto Buono Strano che ci siano così pochi Collezionabili ma io li avrò persi A migliaia Prima di trovare questi due Che sono stati i primi due tra l'altro Ehm Merda Vediamo la giramita Ehm Dov'è che sono? Dov'è che cacchio dove andare? Se si gira con la... lo dovremmo prendere da sotto eh ma mi sa che ci hanno fottuto oh ok quanti ne mancano troppi quelle lì ma non si girerà facilmente o si invece se andiamo al su di qua dovremmo fargli il giro da dietro però vediamo se ce la facciamo sono in due ok ho fatto no 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 ma vaffanculo eh ho fatto troppo di fretta bisogna andarci con più calma resta a riparare per... eh lo so grazie a me vediamo da... oh l'hai fatto prima andiamo a nasconderci perché... dai scendi oh cazzo col colpo in pappo no 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 scappiamo andiamo a ripararci La ricarica E facciamo il giro da dietro Creiamo un po' di gattina No, 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 via C'è un po' Scappa, scappa, scappa Scappa, scappa Dov'è? Dov'è? Ah, che pa' Oh Esci da testa Boom Boom, mamma mia Adesso Come non posso nascondermi sempre per sempre? Certo che posso Appena finisco queste munizioni Devo prendere quello del pompa Dov'è? Ah, ma sempre per lì? No Ok, è andato E l'altro è di qua Gli altri Ok, questo è morto Di qua se non ricordo male c'era un pompa No, no, no Che noi useremo tra l'altro Grazie mille Sì, certo Prego Dov'è che è? Dov'è che spari? Allora Saliamo di qua Ma dov'è che sono finiti tutti? Oh Ma quanti siete? Oh Prendi Prendi Bravo Quanto Monti siete Per Prendi No Ho Torni No Così, attraverso No Ok Altra munizione Dovrebbe essercene uno Da qualche parte È qua sotto il mare Grazie Buono, finiti Perfetto Sì, molto meglio Carichiamo Ok, sei pronta? Vai Dai, dai, dai Sì Ok Vai, qui ce lo facciamo Passa Che fammi passare Non credo che ci sia nulla Qua dovremmo buttarci Sperando di non fare una fine rovinosa Come al solito Quando devo buttarmi da qualche parte Ma qua non si va da nessuna parte Quindi, per forza La via è questa Devo andarti là Infatti Mi butterei Giusto Sotto la croce in alto È lì che Eberi ci vuole portare Beh, se è da riordine Noi obbediamo Scendi Ragazzo Com'è la situazione? Da merda Ehi, Sally Stiamo andando bene Ma il tesoro è più vicino Alla cattedrale Di quanto pensassi Accidenti Cosa vuoi che facci? Niente Beh, tieni in caldo i motori Presto saremo di ritorno D'accordo Aggiornami Contaci Bella, Sally Sarà una bella e lunga scarpinata Ma qua è inutile andare Lo stile è piratesco Sì, sì Adesso arrivo Ok Andrì uno E andiamo su di qua Che palle Eh, no Eh, no Nessuno E questo cos'è? Molto piratesco Sì Guarda carino Un tesoro Oh, un coltellino Bello, bello Quindi di qua Volevo fargli il giro da dietro Invece ho trovato dei tesori Non si può andare Ok Quindi credo dovremmo riuscire Di qua Oh, munizione con la K Perfetto Ma Sam Non darmi una mano Tranquillo Tranquillo Ok Non si può salire da qua Eh, no Eh, no Vediamo cosa Vediamo cosa hai trovato Eh, grazie 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 Dai, dai Eh, potrei calarmi Cosa ci sarà sotto? Niente Ce l'ha detto Ce l'ha detto santo Per informazione Di cronaca Opla E ci che l'hanno costruita E' impossibile Sembra un sistema di carrucole Per sollevare tesori a volontà Per sollevare qualcosa Non abbiamo fatto a non pensarci Era a destino che lo trovassiissimo Romanticone Vediamo così Potrebbe funzionare Per appendersi da qualche Oh, stai fermo No Morirò male Più No Non credo che sia di qua Sam, dove sei? Ok Dove bisognero andare Ecco amici C'è solo questo Da fare Stavo morrendo malissimo E diciamo che adesso Ci rivediamo Quando trovo la soluzione Perché Ci metterò un po' Ok ragazzi Credo di esserci Proviamo così Come stavo facendo prima Santo che non avevo visto Questi Grazie Un appiglio del paracipiglio Ok, su Su Verso la sporgenza No Perché Siete in mezzo alla neve Di qua Bene Ok Forse non è stata Una grande idea No Oh Abuccio Dove riesci andando Ah là Trovate Dondola 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 Brava Eh già Ehi Stai attento Quando svolti l'angolo Ok Ok Guardi No Sparmi alle forze Non abbiamo ancora finito Ciccino Non so dove andare Andrei qua O bisogna fare il giro Dall'altra parte Eh sì Bisogna fare il giro Di qua Speriamo E ora No 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 Che palle Sono un moruto Buona Non c'è quella Amica E mi ordine Eh già Strano che succede Qualcosa Dai vai vai C'è una scala Sull'altro lato Raggiungimi da lì Ok ci provo Hopla Hai talento Di far crollare le cose Soprattutto le rocce Non dirmelo Non far crollare la scala Perlome Ecco Sento cielo Stai bene Sì Come ti dicevo Sì 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 Dai resisti Stavo a vedere Sì 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 Scemo è più scemo Sarà una questione genetica Probabile Non ti raggiungo da qui Oh Lai Certo è strano Cerchiamo di fare Il più in fretta possibile Guarda che bravi che siamo Sembramo Eh sì Grazie Manina Bravo Sì 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 Quindi siamo arrivati alla prima croce Credo Sì E dove bisogna andare Eh no Se l'interno è quello siamo messi bene Ok Guarda Altra esplosione Perfetto Capulare Capulare Il mercena... oh, ma io ora voglio una balestra o qualcosa del genere. Stiamo avvicinando a te. Lo so. Come faccio da girarlo? Così è l'unico amore. Ma che fule! Aspetta. Non me lo so, lo so. Che palle. Per un altro minuto di culo devo rovinare tutto. Guardi i pezzi! Trovate quello strusso! Stiamo avvicinando qua. Stiamo avvicinando qua. Stiamo avvicinando qui solo. Sam! Veni così! Fai giro! Fai giro! Non volevo far questo. Dai, ero un answer! Tiro fuori la testa, BOOM! Cosa vuol dire? Va finito. Qui... Molto questo! Ora sono torta... Tutto tranquillo! Spero che siano finiti! Ciao! No no no! Prendiamo questo! è più figa ora non lo sa oh si, si che noi dobbiamo andare vediamo se posso andare da qualche parte no questo o magari yes ehi, attento potrebbe diventare instabile ah beh mercenari non me lo sarei aspettato dai, vieni qua ehi Sam, dammi una mano moriamo io chiederai scusa d'accordo sono troppo bravo vai ok, da arrivare a questa tomba dove dovrebbe esserci il tesoro ci stiamo mettendo una vita di qua si, lo so anch'io di qua no c'era doppio salto infine io non ho controllato mastardi ok ora adesso si E' di qua? Oh figo Dici? Eh sì Una si spessa sicuro Ecco Ok Dai Non si spessa Proseguirei verso di qua Ragazzo la tempesta peggiora a che punto siete? No merda ancora Stiamo entrando nella grotta La grotta? Sì potremmo restare isolati per un po' Non preoccuparti D'accordo Allora vi aspetterò al salto Puoi farti una pianicalla altrimenti E non l'hanno vista Dai ragazzi siamo arrivati alla grotta E' stato un lungo viaggio per arrivare fin qua Quindi direi che possiamo vederci al prossimo episodio E se questo vi è piaciuto Lasciate un like, un commento e condividete il video E iscrivetevi al canale Bella ragazzi